Stai pensando di acquistare un nuovo smartphone? Scopri tutti i vantaggi della nuova offerta a telefono incluso di Wind. Utile e conveniente, puoi avere subito il tuo smartphone risparmiando fino a 310 euro se scegli la formula rate invece dell'acquisto in un'unica soluzione. Semplice e sei libero di cambiare. Flessibile e ancora più ricco, con Wind puoi sostituire il tuo smartphone con un nuovo modello dopo soli 18 mesi e puoi persino aggiungere da subito i nuovissimi smart device. Per tutti, da oggi l'opzione è disponibile anche per chi ha un'offerta a noi per ricaricabile. Vediamo come funziona. Con telefono incluso, unisci i vantaggi dell'offerta Wind alle funzionalità di un nuovo smartphone. Scegli una delle offerte Wind per ricaricabile, abbonamento o partiteiva. E con telefono incluso, aggiungi lo smartphone che preferisci, paghi un anticipo e piccolissime rate mensili e risparmi sul costo totale. E per effettuare i tuoi pagamenti? Facile! Oltre ad utilizzare la carta di credito, da dicembre, anche se sei un cliente con un'offerta ricaricabile, potrai pagare tramite addebito sul conto corretto. Se prima della scadenza del contratto decidi di disattivare la tua offerta, pagherai solo le rate mancanti e l'importo che ti è stato scontato. Con il telefono incluso di Wind non paghi costi aggiuntivi. Lo smartphone non costerà più del prezzo che pagheresti in un'unica soluzione. Ma tieniti forte, perché c'è un'altra grande novità. Ti sei stancato del tuo smartphone e vorresti avere l'ultimo modello appena uscito? Con Wind hai la flessibilità di poter cambiare il tuo vecchio smartphone o aggiungerne uno nuovo a tua scelta dopo soli 18 mesi, continuando a beneficiare del risparmio iniziale. È semplice. Puoi cambiarlo e pagare in un'unica soluzione le rate residue, mantenendo lo sconto sul costo totale. Oppure puoi aggiungere un nuovo smartphone e pagare le restanti rate, mantenendo attiva l'offerta a telefono incluso. Essere sempre al passo con le novità non è mai stato così facile. E se ti serve uno smart device, la convenienza di pagare a rate si estende anche ai prodotti della linea Digital Home & Live. Scegli il tuo smart device preferito e vivi a pieno la tecnologia e le tue passioni. Hai visto quante belle novità? L'opzione telefono incluso oggi è ancora più semplice, innovativa, flessibile e conveniente. Ora non ti resta che scegliere il tuo nuovo smartphone tra quelli che Wind ha selezionato per te e attivare telefono incluso di Wind. Grazie per la visione!